L'ordinanza della Regione Veneto ha eliminato la distanza massima di 200 metri dalle abitazioni per le uscite in questo periodo di coronavirus, ma nelle ultime ore molti hanno approfittato di questo allentamento per fare gite e passeggiate fuori porta. La notizia è arrivata al Presidente Zaia assieme alla documentazione fotografica di queste fughe, che potrebbero causare un ritorno delle limitazioni. La distanza è logico che è molto prossima all'abitazione. Io non posso vedere immagini che mi mandano e mi fanno incazzare di parcheggi dei rifugi pieni di macchine, perché dico che se funziona così mi costringete a rimettere una distanza. Allora non è giusto, sapete quel cartello che si leggeva spesso, andavi del cazzolaio e c'era sempre scritto per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Io trovo ingiusto che per colpa di qualcuno tutti debbano essere penalizzati.